Grazie Presidente. Noi ci troviamo oggi qui a discutere di una risoluzione che è già stata approvata in Commissione all'unanimità. Io credo che però sia necessario da parte nostra fare una riflessione, ovvero per quale motivo oggi Post è iniziato a fare questo tipo di operazione, di chiudere dei propri uffici nei territori dove oggettivamente dava dei servizi alla cittadinanza. Qual è il motivo? Il motivo è semplice e io mi rivolgo in questo caso ai membri del PD e ai membri di NCD che mio malgrado alle spalle non riesco a guardare. Il motivo è perché il Governo vuole vendere poste, vuole privatizzare poste, quindi ha bisogno di diminuire dei costi per aumentare la marginalità e avere un prezzo di vendita maggiore. Allora io non posso accettare che in quest'Aula si venga a fare quelli vicini ai territori e poi contestualmente le stesse forze politiche a Roma vanno in quella direzione. Credo che sia una scelta un po' un minimo incoerente. Poi dopo il 92% di persone che del PD hanno condiviso la nostra linea di maggiore autonomia alla Regione ormai mi aspetto un po' di tutto. Però credo che sia un atto un po' più responsabile da parte vostra cercare di far rivalere maggiormente a Roma, cercare di far capire le istanze del territorio. Questo secondo noi è importante. Poi vorrei ricordare un altro passaggio. Poste italiane oggi ha la possibilità, come diceva il collega Barboni, di avere un utile netto di più di un miliardo perché gode di vantaggi e ha goduto negli anni di vantaggi che lo Stato gli ha messo a disposizione. Poste ha festeggiato i 150 anni ma è nata grazie allo Stato, poteva raccogliere i soldi grazie allo Stato. Non è libero mercato quello. Quello si chiama monopolio. PT vuol dire che facevano servizi di postali e telegrafici, vuol dire che facevano dei servizi pubblici. Oggi queste società oggettivamente ha tutta una serie di utili perché lo Stato l'ha aiutata, perché lo Stato gli ha dato queste disponibilità. Quindi lo Stato su questa operazione ha un impegno, secondo noi, fondamentale. Ricordiamo anche che la posta, grazie al lavoro fatto dallo Stato, raccoglie soldi, fa buoni fruttiferi, va a avere libretti postali, le persone vanno a ritirare la posta e la pensione imposta. Li abbiamo obbligati ad aprire un conto corrente postale perché altrimenti non potevano andarla a ritirare. Quindi tutte queste cose sono state fatte perché è un servizio che viene garantito dallo Stato. E noi oggi siamo qui giustamente a manifestare contro le scelte del Governo, di cercare di non fare indirette del Governo, per l'amor del cielo, perché il posto non fa più parte del Ministero da diversi anni. Per quale motivo? Per quale motivo? Ci sono diversi comuni, non tanto Milano e i comuni limitrofi, che troveranno la chiusura dei loro uffici di zona. Quindi le persone saranno costrette a dover muoversi a distanze chilometriche senza che lo Stato ovviamente sia riuscito a metterli a disposizione delle infrastrutture. Ma qua si aprirebbe un altro capitolo perché qui oltre autostrade mi sembra che non siamo in grado di far molto ma questo mi scusa l'assessore che non c'è sorte su questo tema. Quindi davvero noi crediamo che sia una scelta irresponsabile. Noi voteremo sicuramente a favore di questo tipo di risoluzione anche se siamo già convinti che la leva sia da fare a Roma. Il tavolo in regione non credo che porterà molto, la politica non è stata coinvolta né sui comuni né in regione anche perché non ne ha competenza e poste non ha nessuna intenzione di fare scelte condivise. Credo che i manager che sono venuti in audizione lo abbiano fatto capire in maniera indistinta, in maniera chiara. Loro non gli interessa nulla, hanno un obiettivo, devono aumentare la marginalità, hanno già pianificato tutto, quindi non lo vogliono fare. Allora o il governo si sveglia o il governo cambia idea e non copre spese correnti o spese di breve periodo smobilitando un investimento costruito in 150 anni di storia italiana oppure non andiamo da nessuna parte, io capisco che oggi Renzi abbia il vento in poppa e qualsiasi cosa che dice sembra oro però oggettivamente sta facendo una scelta secondo noi sbagliata, mi pare che i colleghi del PD questa cosa la condividano quindi facciamo in modo che loro capiscano che stanno facendo una boiata perché svendere un patrimonio per coprire dei buchi è una follia, vuol dire che sei alla canna del gas vuol dire che tu stai svendendo il futuro per coprire dei debiti odierni. Mi spiace che guardate così, vi faremo un corso anche su queste cose magari in futuro perché io capisco che se il partito dice una roba voi fate quella ma bisogna studiare e capire di cosa si parla prima di andare poi a fare delle scelte davvero, mi dispiace, per l'amor di Dio, io so che voi siete nati perfetti, infatti siete del PD e quindi questo lo sappiamo, però noi la pensiamo diversamente noi la pensiamo diversamente e quindi ripeto, voteremo a favore, chiediamo un minimo di coerenza grazie 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 grazie